Diego, come è nata questa idea di voler mettere insieme una squadra di ragazzi, di rifugiati politici? È nata innanzitutto dalla passione per il calcio e poi anche dalla necessità di lanciare un messaggio positivo rispetto a questi ragazzi che in questo periodo sono qui nel nostro territorio e stanno cercando di ottenere lo status di rifugiati politici perché vengono tutti da paesi in conflitto e secondo noi, e secondo tutte le associazioni che ci seguono in questo progetto, l'Arci, l'Albero del Pane, non c'è una cosa migliore che il calcio per cercare in qualche modo un veicolo di integrazione tra i ragazzi e le persone del territorio. Quanti sono i ragazzi che compongono La Rosa? La Rosa sarà più o meno di 25-26 elementi, abbiamo fatto un mix di 15-16 rifugiati e 7-8 ragazzi qui del territorio perché appunto la finalità è anche quella di permettere ai ragazzi di fare delle amicizie che vadano al di là della conoscenza di noi operatori, che possano sviluppare una loro rete di conoscenze che poi magari li possa aiutare nella vita di tutti i giorni anche. Ci sono però, immagino, anche delle difficoltà quando si tratta di relazionarsi, no? Anche se si tratta questo di uno sport, soprattutto nel comunicare con questi ragazzi. Sì, però si impegnano molto, fanno il corso d'italiano, c'è chi parla francese, chi parla inglese, qualcuno non parla neanche queste lingue, le lingue del loro paese, però si impegnano molto, sono dei bravi ragazzi. Un contributo immagino sia arrivato anche dalla WISP, intanto vi allenate su uno di quelli che è un campo da gioco dell'Unione Italiana Sport per tutti. Sì, devo dire che la WISP ci sta aiutando molto e con il presidente Sofini di Arezzo c'è un rapporto continuo e ci stanno agevolando in tutte le maniere, però colgo comunque l'occasione perché comunque ancora siamo a ricerca di fondi per poter mandare avanti questa squadra, ancora non abbiamo raggiunto la cifra, quindi magari potrebbe essere l'occasione se qualche sponsor è interessato a dare una mano all'Atletico Ubuntu. Parteciperete a quale campionato? Parteciperemo al campionato WISP, seconda divisione, già le squadre ci aspettano, alcune ci hanno già invitato a pranzo per fare un terzo tempo insieme e speriamo che sia un bel campionato e di potercela giocare. Io mi chiamo Talla. Quanti anni hai? Io ho 25. Da quanto tempo sei in Italia? Da sei mesi. Da dove vieni? Da Gambia. È la prima volta che giochi a calcio? No, no a Gambia, sì io gioco a calcio a Gambia. Perché sei venuto in Italia? Perché io ho un problema in Gambia, sì. E adesso questa avventura, provi a giocare a calcio, vorresti che questo fosse anche il tuo lavoro? Sì, sì, io ho lavorato e ho lavorato in Gambia per un business board norm. Per il football? Sì, io ho giocato il football, ma dopo, perché non ero sponsor, io ho lavorato. È stato subito convinto, Presidente Cioffini, dall'idea di Diego Di Polito, iscrivere una squadra di ragazzi per lo più rifugiati al campionato WISP di seconda divisione? Direi più che convinto, sono stato entusiasta di quest'idea. D'altra parte la WISP è lo sport per tutti e non poteva che accettare con grande entusiasmo quest'idea di Diego Di Polito. Questa squadra, Atletico Ubuntu, è bene cominciare a chiamarla con il nome che ha assunto per partecipare al nostro campionato. Sarà nella seconda categoria del campionato WISP, è il girone che riguarda squadre della Valdichiana e di Arezzo. Sono 13 squadre e si stanno già allenando per poter dare delle belle prestazioni a questo campionato. Tra l'altro con le problematiche che riguardano il tesseramento, soprattutto di rifugiati politici, a volte per essere tesserati in alcune federazioni occorrono tempi biblici quasi. La WISP in questo caso invece è proprio sport per tutti perché viene incontro a questa esigenza di poter far giocare a calcio, comunque praticare sport anche a persone rifugiati politici. Sì, questo è un problema che abbiamo, le cronache ci hanno portato a queste problematiche, ma la WISP per questo è aperta a tutti. La WISP fa giocare tutti quelli che vogliono giocare, naturalmente abbiamo le nostre regole, però non abbiamo noi le problematiche di tesseramento che ha magari la federazione, che ha la figge in campo calcistico. È una nostra battaglia anche quella di cercare di aprire a tutti lo sport, perché lo sport è un veicolo fondamentale per la socializzazione e per l'integrazione delle persone. Ok, grazie ragazzi, grazie. Thank you.